Se da una parte all'interno dei partiti non sono ancora state definite le liste, dall'altra il Movimento 5 Stelle ha già scelto chi candidare e lo ha fatto dallo scorso febbraio attraverso la consultazione online sulla piattaforma Rousseau. Iscritti abilitati al voto, residenti nelle Marche hanno potuto esprimere la preferenza partecipando attivamente alle decisioni politiche. I pentastellati sono entrati per la prima volta nell'aula di Palazzo Raffaello nel 2015. Il prossimo settembre si presenteranno a sostegno del candidato governatore Gian Mario Mercorelli che proviene dal cratere sismico e ha vissuto in prima persona il dramma del terremoto. Già complete quindi le liste nella provincia pesarese sono 5, Marta Ruggeri, candidata a sindaco di Fanno nel 2019 e attuale consigliera comunale, Giancarlo Fichera, Pierluigi Ferraro, Sieva Scozza Fava e Filippo Villanelli. La Ruggeri ha elencato le priorità dei grillini, ricostruzione post-sisma, inclusione sociale, internazionalizzazione di piccole e medie imprese per aiutarle ad essere più competitive sul mercato e in particolare la sanità pubblica. Una battaglia che la consigliera comunale ha iniziato anni fa a livello locale e che vorrebbe continuare in regione, ovvero l'ente che ne ha la competenza. Invece l'alleanza con il centro-sinistra è fuori discussione per la Ruggeri. Troppi temi ci portano ad essere all'opposto, ha precisato, uno su tutti, il sistema sanitario. Nei giorni scorsi aveva commentato come inutile e inviata fuori tempo massimo la lettera scritta dal sindaco Seri al governatore Ceriscioli, nella quale il primo cittadino chiedeva di modificare l'accordo firmato due anni fa sull'assetto delle strutture ospedaliere. Questa missiva ha tanto sapore di una pezza avvolta a coprire un buco grande come i lunghi anni in cui il nostro sindaco, aveva detto Ruggeri, non ha fatto niente per potenziare la sanità nel nostro territorio. Un obiettivo che invece la candidata non perde di vista. Un obiettivo che invece la candidata non perde di vista. Un obiettivo che invece la candidata non perde di vista.